La statua della Madonna del Mare, situata ad Agropoli in zona Porto, subisce un ennesimo sfregio. Questa volta alla statua della Madonna protettrice di chi va in mare sono state amputate quattro dita ad una mano. Non è chiaro se si tratti di un atto vandalico o dei segni del tempo della statua, ma se si trattasse di vandalismo non sarebbe una novità nella città di Agropoli, viste le condizioni in cui è stata ridotta la statua di San Francesco, riempita di graffiti e senza una mano. Ma resta il fatto che sarebbe corretto dare un nuovo lustro alla statua della Madonna del Mare, che è da sempre amatissima ad Agropoli, dagli abitanti del borgo e da chi ci lavora in mare, come i pescatori, e festeggiata come una splendida festa a luglio. Vandali o non vandali, l'effigie della Vergine merita più rispetto. Io appena ho preso della notizia mi sono innanzitutto recato presso la punta del molo per verificare di persona quanto accaduto e quindi ho potuto vedere non solo i danneggiamenti alla statua, che è stata privata di tre dita della mano sinistra ed un dito della mano destra. È stata deturpata anche la cupoletta che rappresenta la chiesa ai suoi piedi e poi, ancora peggio, sul manto della Madonna sono state incise due terribili bestemmie. Quindi siamo di fronte non a un semplice atto vandalico, ma qualche cosa di voluto e di fatto in odio alla fede, in odio a questo simbolo così caro alla fede cattolica che è l'immagine della Madonna, ma allo stesso tempo così caro anche la tradizione, l'identità propria degli agropolesi che in quelle immagini vedono un punto di riferimento ormai secolare. È una ferita grande per la comunità cristiana, cattolica, ma credo dovrebbe essere una ferita che ogni agropolese dovrebbe sentire, perché è un atto di profonda inciviltà. Io poi successivamente mi sono recato a sporgere come atto dovuto una denuncia contro i gnoti presso la nostra caserma dei carabinieri, dove devo dire ho trovato subito la solidarietà dei militari dell'arma, che ringrazio perché prontamente poi si sono portati a fare anche loro un sopralluogo. Quello che posso dire è che credo che innanzitutto dobbiamo scoprire il senso del rispetto degli altri e delle posizioni degli altri. Una persona che non crede non ha il diritto di offendere chi crede e ne ha il diritto di deturpare i simboli religiosi che sono tanto cari a chi crede. Questo è un principio proprio sancito anche dalla nostra Costituzione. Quindi siamo di fronte a un atto non solo di offesa alla religione, alla fede cristiana, cattolica, ma di piena e totale inciviltà e mancanza di osservanza delle leggi. Quello che dico invece ai fratelli di fede è che sabato pomeriggio durante la messa delle 17 e 30 faremo una preghiera di riparazione per questo atto sacrilego contro l'immagine della Madonna e quanto prima ci metteremo anche in moto per poter reperire i fondi, per poter ridare all'immagine della Madonna del mare quella dignità che questi balordi le hanno tolto.